Gentili telespettatori, buona giornata. La portavoce, o meglio, coportavoce di Europa Verde, Eleonora Evi, in un'intervista a Fanpage, spiega perché l'alleanza Verdi-Sinistra Italiana ha presentato un esposto, quindi una sorta di querela, per la vicenda dei presunti finanziamenti russi. La sinistra dice, noi riteniamo che sia un diritto di tutte le cittadine e di tutti i cittadini italiani sapere se questi soldi sono arrivati a un qualunque partito politico italiano, ha detto. E poi, attenzione, aggiungono, è a naso chi ha indossato delle magliette con l'immagine di Putin è Salvini, quindi lui è il primo che qui deve chiarire, ma veramente chiarire, dice questa Eleonora Evi di Europa Verde. Riteniamo che ci possano essere anche dei profili di reato contro l'interesse nazionale. Il COPASIR poi ha detto che non ci sono partiti italiani coinvolti nel dossier dei servizi segreti americani e Draghi ha parlato però di pupazzi prezzolati, cioè dei politici che hanno preso dei soldi e che sono delle marionette in mano a chi ha dato questi soldi. Aggiungendo che negli ultimi vent'anni il governo russo, come risulta da amplissime ricostruzioni internazionali, ha effettuato una sistematica opera di corruzione in molti settori, in Europa e negli Stati Uniti. Sono cose note, non c'è di che stupirsi, dice la portavoce di Europa Verde. Allora, Draghi non ha fatto nomi, pertanto questa signora, Eleonora Evi, che sta praticamente insinuando, sta insinuando che, dicendo che Salvini, visto che era quello che si metteva le magliette, è il primo che deve chiarire, ma veramente chiarire. I profili di reato contro l'interesse nazionale, se si fossero profilati dei reati di alto tradimento contro la nazione, Draghi non avrebbe parlato in conferenza stampa, ma questo politico sarebbe già stato arrestato e messo in galera. Quindi, se si ravvedono dei profili di reato, non è la signora di Europa Verde che deve dire che ha ragione, aspetta che indaghiamo. No, se ci sono dei profili di reato, aspetta la magistratura. La magistratura non è così sciocchina che non sa quando c'è un reato o no. Pertanto, se i servizi segreti italiani, che probabilmente hanno informato Draghi, su questo pupazzo prezzolato che ha preso i soldi e per questo è una marionetta, se ci fosse stato un'ipotesi di reato, la magistratura sarebbe già intervenuta e sarebbero poi intervenute anche quegli strumenti a tutela della democrazia italiana. Nel senso che, se i servizi segreti hanno realmente visto il profilarsi di un reato, avrebbero informato chi di dovere, chi di dovere avrebbe preso delle misure per la salvaguardia della Repubblica, che è l'intervento delle forze speciali che si occupano della continuità e della difesa anche dei quartieri governativi, Parlamento, Senato, Presidenza della Repubblica, Quirinale, eccetera, eccetera. Quindi, se ci fosse stata, se si fosse ravveduto un'ipotesi di reato, state certi che sarebbero già intervenuti quelli che devono intervenire. Tornando al, visto che lui mette le magliette, deve chiarire, ma veramente chiarire, in realtà Salvini non deve chiarire nulla. Cioè, se tu metti la maglietta, allora, se io metto la maglietta di Vasco Rossi e poi si dice che Vasco Rossi abbia dato dei soldi ai fans, allora io che ho messo la maglietta di Vasco Rossi, devo chiarire, ma veramente chiarire. Scusi, signor Vasco, sto dicendo, il primo nome che mi è venuto in mente. Io, quando ero giovane, mettevo la maglietta di Vasco Rossi per andare al concerto, ma non è che mettendo la maglietta di Vasco Rossi, allora, se c'è un problema con Vasco Rossi, io devo chiarire, ma veramente chiarire, perché mi sono messo una maglietta, le magliette che si è messo Salvini di Putin definiscono il personaggio, è l'unico politico al mondo che si è messo le magliette di Putin, questo definisce da solo il personaggio, ma il definire il personaggio non significa che debba chiarire qualcosa, insomma, non si possono far diventare, dei sospetti non si possono raccontare così, pertanto credo che gli avvocati di Salvini in questo caso potrebbero intervenire per diffamazione, perché qui questa signora, Eleonora Evi, dice riguardo ai fonti russi, visto che Salvini si metteva le magliette, deve chiarire, veramente chiarire, perché se ci sono dei profili di reato contro interesse nazionale, dire una cosa così non ha senso, non ha senso perché si tratta di diffamazione, pertanto non si può accusare questo politico fino a che non c'è niente, nel senso che non c'è nulla, nulla di nulla, se non Draghi che ha detto delle parole senza fare nomi e cognomi e poi ognuno lì penserà quello che vuole, poi ricordiamo alla signora Eleonora Evi che allora anche Letta deve chiarire, perché Letta, il PD, al suo interno c'è il PCI, Partito Comunista Italiano, che per decenni ha preso vagonate di milioni di euro in arrivo dall'Unione Sovietica, allora uno ha messo le magliette ma quegli altri hanno preso diversi milioni di euro per decenni, quindi allora anche Letta dovrebbe chiarire, ma veramente chiarire, perché al suo interno, all'interno del PD c'è il PCI, ricordatevi che il PD è la somma di più partiti, all'interno del PD c'è il PCI, Partito Comunista Italiano, allora anche lui dovrebbe chiarire, paragone che contro le sanzioni dovrebbe chiarire anche lui e allora tutti gli italiani che sono contro le sanzioni sono potenzialmente delle persone che hanno preso dei soldi da Putin e allora non lo so, un certo numero di italiani devono chiarire ma veramente chiarire, ecco insomma non si può dire queste robe qua, dai, non si può accusare le persone senza avere uno straccio di prove ma solo perché lo si odia allora lo devo accusare, questa sorta di giustizialismo senza prove fa anche un po' paura, a me sinceramente una sinistra che ragiona in questo modo, abbiamo visto i comizi della Meloni, le aggressive, cioè il ragionare in questo modo, hai messo delle magliette, devi chiarire, ma veramente chiarire, sono dei discorsi che a me lasciano un po' perplesso, ecco, perché si sentono da più parti dalla sinistra questi atteggiamenti autoritari, intransigenti, giudizi senza processi, insomma lasciano un po' perplesso, molto perplesso questo modus operandi che hanno a sinistra di vedere tutto quello che non è di sinistra, insomma, grazie a tutti e arrivederci.